sentire dei magistris perché si spara della sua regione e tutto sommato la questione vera è ma questo pass vaccina questo green pass serve solo per il turismo o prima o poi servirà anche per chi magari è imprenditore privato e dice nel mio locale ci entri solo se c'hai il pass nel mio ristorante ti siedi solo se c'hai il pass funziona così o abbiamo capito male guardi era inquadrato molto correttamente la questione antonello caporale il tema è nazionale quindi si continua a leggere interviste dello stesso figliolo che giustamente dice ci vuole uniformità coordinamento nazionale no discriminazioni però queste parole cadono nel vuoto perché ogni presidente regione o molti presidenti regione fanno a capa loro quindi se fosse una decisione nazionale può avere in qualche modo un'utilità ma oggi è prevalente la confusione le spiego perché in regione campania per esempio continua la propaganda sul vaccino cioè noi abbiamo che ogni giorno si scende magari giustamente la quota di età di quelli che si vaccinano ma tantissimi che hanno più di 60 anni più di 70 addirittura più di 80 non si sono ancora vaccinati questo provoca non solo un rallentamento della ripresa economica perché il virus non rallenta e non contrastiamo in maniera efficace il rallentamento del virus aggiungiamo che la campagna vaccinale deruca qualche giorno fa chiuso i due hub principali perché tre giorni prima voleva far vedere che arrivava per primo insomma per dire questa dico la campania perché ci vivo ma potrei dire anche un'altra regione forse è venuto il momento che la costituzione la legge deve essere rispettata altrimenti noi non lo fermiamo il virus e non riprendiamo l'economia